Mi chiamo Hamad Khalifa e vengo dalla Tunisia. Molti migranti hanno aperto aziende come me, ma le persone fanno fatica a credere che possiamo fare qualcosa di buono. Ecco perché ho deciso di fare un esperimento. Ragazzi, ho un'offerta incredibile per voi. Siamo di fretta. Salve, mi interessa il lavoro? Anche part time non mi interessa. Eh, salve, scusami, ti interessa un lavoro? No. Vi voti disoccupati? Niente, non volete lavorare? Non compro niente. Sì, ho un'azienda, io sto cercando... Non lo paghi? No, io lo pago, certamente. Salve, ti interessa un lavoro per la mia azienda? Ti interessa un colloquio di lavoro? No, no, no. Lei? No, no, grazie. Io ho un lavoro da offrirle. Mi interessa. Quindi, personale. La storia che a